Padre Franco è il suo secondo anno alla festa patronale e ogni anno in questa giornata, 31 agosto, a chiudere la festa c'è il consueto messaggio alla città. Anche quest'anno non mancherà sicuramente, ma da una postazione diversa e tutti ricordano il suo grido, fatto nostro, rialzati. Oggi la parola chiave quale sarà? Magari rivolta a tutti, non soltanto alla cittadinanza di Manfredonia. Il messaggio, tra virgolette, tradizionale è rivolto alla città e al suo territorio e quindi a tutti gli abitanti, credenti e non credenti, ovviamente soprattutto a chi crede e a chi vede nella festa e nella presenza di Maria un riferimento per la propria vita di fede, per la propria vita nel sociale e civile, insomma, nella città. L'anno scorso la parola chiave, il verbo chiave, era un invito, rialzati Manfredonia. Ecco, anche quest'anno continuerò ripetendolo, ma coniugandolo con un verbo apparentemente più cristiano, che è il verbo convertiti. Ma vorrei sottolineare e dirlo subito, ecco che il verbo convertiti non è solo un verbo che riguarda la spiritualità o la religione, è un verbo che dice un cammino, dice un girarsi e mettersi insieme in una medesima direzione. Quindi è un verbo che dice anche molto, anzi direi l'essenziale del vivere civile e di quello che è la vita di una città e di una comunità, di un territorio. La situazione che stiamo vivendo, sia a livello locale che a livello mondiale, credo sia un maggior invito proprio a cercare di indirizzarci tutti nel medesimo riferimento, di guardare tutti verso la stessa direzione, di incamminarci insieme e di essere solidali in questo cammino. Quindi la parola chiave sarà convertirsi, convertiti, ecco, ma non letta unicamente da un punto di vista spirituale, ma da un punto di vista socioculturale. Grazie per questa anticipazione, attendiamo il messaggio integrale. Grazie e a più tardi. Grazie.